Ciao amici! Chi non vorrebbe una chioma bella fluente a tutte le età? Pensate che i capelli crescono di media un centimetro e 25 al mese e 15 centimetri all'anno, ma la velocità della crescita dipende da fattori come età, salute, genetica e dieta. L'età e la genetica non si possono cambiare, ma la dieta sì, quello che mangiamo dipende da noi, quindi un'alimentazione appropriata può fare crescere i capelli più lunghi, soprattutto se sono indeboliti a causa di carenze nutrizionali. Guarda che nessuno più è denutrito oggi! Non parlo di carenza di cibo, ma di nutrienti sani come minerali, vitamine e grassi essenziali. Solo alcuni cibi hanno i nutrienti specializzati per la crescita di capelli lunghi, forti e sani. Se volete conoscerli tutti, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ora ecco i 10 cibi migliori per i capelli. 1. Miglio. Contiene minerali e vitamine del gruppo B, rinforza i capelli dal fusto alla radice. Alcuni integratori per la crescita dei capelli sono proprio a base di miglio. 2. Uova. Sono ricche di proteine e biotina, sostanze essenziali per la produzione di cheratina. La cheratina è una proteina essenziale per avere capelli forti con una buona crescita. Ecco perché nonna Squalè faceva lo shampoo all'uovo. 3. Frutta a guscio. Noci e semi sono amici dei capelli grazie al contenuto di zinco e vitamina B. Contengono anche acidi grassi omega 6 indispensabili a pelle e capelli. 4. Fagioli. Sono una fonte vegetale di proteine, ma non solo. Contengono anche zinco, biotina e folati, essenziali per la crescita e il ciclo di riparazione del capello. 5. Avocado. È un alimento ricco di vitamina E con effetti antiossidanti per la struttura di pelle e capelli. Inoltre i suoi grassi essenziali e benefici rinforzano la struttura del capello. A noi piace tantissimo. 6. Soia. I semi di soia contengono una sostanza chiamata spermidina, molto efficace per mantenere attivo il naturale ciclo di crescita dei capelli e la salute dei follicoli. 7. Pesce. Oltre alle indispensabili proteine, il pesce contiene omega 3 che è risultato utilissimo per contrastare la caduta, favorire la crescita e rendere i capelli più forti. 8. Gamberetti. Sono ricchi di proteine, vitamina B e zinco, necessari alla crescita dei capelli, ma anche di vitamina D3 che sembra essere un nutriente fondamentale alla salute dei capelli. 9. Spinaci. Fanno il pieno di ferro, vitamina A e vitamina C e questa combinazione è utilissima per mantenere sano il cuoio capelluto e i capelli. 10. Frutti di bosco. Sono ricchi di vitamina C, un nutriente essenziale per assimilare il ferro e per la produzione di collagene, la proteina che mantiene sana e forte la struttura del capello. Bene, sul canale trovate tanti altri video sui capelli in una playlist e in descrizione un ebook dedicato. Per seguire tutte le novità del canale basta iscriversi, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e abbi cura dei tuoi capelli, i risultati si vedranno. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!